Dal 1996 siamo un partner affidabile. Abbiamo sviluppato idee, risolto problemi. Siamo cresciuti insieme ai nostri clienti. Grazie al nostro personale qualificato abbiamo soddisfatto esigenze molto diverse, con soluzioni innovative e risposte tempestive. FP Trasmissioni è una garanzia. Non ci conosci ancora? Scopri i nostri punti di forza. Movimento terra, calcestruzzo, sollevamento e movimentazione, intralogistica e logistica, industria alimentare e agricoltura, marino e offshore. Sono questi i settori nei quali opera FP Trasmissioni, sia per quello che riguarda la distribuzione di componenti e la progettazione di soluzioni personalizzate, così come la revisione e l'assistenza. I nostri prodotti principali sono motoriduttori idraulici a singola e doppia velocità, riduttori epicicloidali modulari, riduttori per cingolo, per rotazione, per betoniere, per ruote, per traslazione e per argano. Siamo inoltre in grado di costruire ingranaggi e componenti speciali su disegno e o campione. Distribuzione, sostituzione, riparazione e assistenza sono gli ambiti nei quali opera il personale dell'azienda, per soddisfare ogni necessità del cliente e customizzare il prodotto. FP Trasmissioni è in grado di ridurre il fermo macchina dei clienti grazie all'equipaggiamento del magazzino. Siamo in grado di evadere le richieste entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine, attraverso un servizio espresso. Il personale esperto che opera all'interno dell'officina è sempre pronto a rispondere alle richieste del cliente, eseguendo riparazioni e revisioni in maniera precisa e tempestiva. Il comparto interno di ricerca e sviluppo offre un servizio dedicato al miglioramento continuo dei propri riduttori, anche attraverso il confronto quotidiano con i tecnici di tutto il mondo. Le competenze dei nostri esperti ci permettono di progettare su misura il motoriduttore migliore per la vostra movimentazione meccanica. Prodotti di grande qualità, esperienza sul campo, personale qualificato e aggiornato, servizio puntuale e massima efficienza fanno di FP Trasmissioni il vostro fornitore di fiducia. Ci trovate sul sito o direttamente in azienda. Il nostro ufficio vendite è a disposizione per poter evadere ogni vostra richiesta. FP Trasmissioni. Il vostro partner ideale verso il successo.